Con Alfonso Buscemi, segretario generale della CGL provinciale, parliamo dell'avvertenza ai talcementi, una storia che si potrà ormai da tantissimi anni, ne abbiamo parlato nel mese di settembre, l'altro ieri in prefettura c'è stato un incontro con il prefetto, collegato in videoconferenza da Bergamo l'amministratore di Talcementi, presente il sindaco di Portembedocle e l'amministratore della società che intende investire su quest'area, qual è l'aggiornamento segretario di questo incontro che c'è stato in prefettura altro ieri? Si è raggiunto l'intesa, dopo 4 anni di chiacchiere, tra la società che si vuole insediare con un'attività produttiva negli ex stabilimenti talcementi è la stessa talcementi, hanno trovato un momento di sintesi, si è sottoscritto un protocollo d'intesa nel quale si prende atto del protocollo firmato in prefettura nel 2017 che vede l'assorbimento degli operai necessari per realizzare questi obiettivi dell'azienda e quindi sino a quando loro hanno bisogno mano d'opera devono attingere a quei lavoratori licenziati nel Talcementi. Con quanti operai si parte? Nella prima fase, ci ha spiegato l'amministratore delegato, serviranno 4 lavoratori perché devono mettere in campo un cantiere e quindi man mano si inizia a lavorare, cresce l'attività, si parte da un minimo di 4 per arrivare sulla base di quello che poi sarà l'attività o un numero maggiore. Ma che cosa farà? L'attività qual è? Cioè di cosa si tratta? Si tratta di un recupero ambientale, lì il Talcementi avendo dismesso ha lasciato una terra che va recuperata dal punto di vista ambientale. Questa azienda, la Riccab, si impegna a risanare, a recuperare dal punto di vista ambientale quella zona attraverso il riempimento delle buche con i materiali inerti che provengono dalla scarificazione, tutto quello che è il materiale che risulta edile. Stiamo parlando quindi, hai detto segretario, che è stato firmato un protocollo di intesa, quindi l'ha firmato anche il sindaco di Portembedoclea? Sì, l'abbiamo firmato sia le organizzazioni sindacali che il sindaco, sapendo che quel protocollo di intesa non viene assunto nessun onere a carico di terzi, se non delle due società che si impegnano reciprocamente a rispettare le cose che dicevano prima. Una ad assumere e l'altra ad accedere a un prezzo non di mercato perché c'è questo aspetto sociale che deve essere valorizzato. Magari a fine incontro poi ci si parla, perché una cosa non ho chiaro, lo chiederò direttamente al sindaco, perché Tamarandici fa te la domanda, ma perché il sindaco ha firmato il protocollo e poi ha detto sulla sua pagina Facebook che a tutti gli effetti diventa una comunicazione che non era d'accordo? Più che non è d'accordo lei dice che non ha visto il progetto e quindi deve vedere il progetto, che vorrei che le dica. Il progetto, io mi occupo di questa avvertenza da settembre, da quattro mesi, il progetto per me è chiaro, il sindaco dovrebbe semplicemente essere felice di poter contribuire attraverso questo progetto a recuperare quella zona dal punto di vista ambientale e dare posti di lavoro.